Sono il pianoforte in strada e anche in posti un po' particolari come i posti di guerra. L'ultimo posto dove sono stato era in Polonia, sul confine sull'Ucraina. Sentivo come una voce di dentro che mi diceva vai lì, suona e cerca di emanare un po' di pace. Questo è il palco di Dalla strada al palco per te. Grazie. Prego. È stato veramente emozionante poter suonare un pezzo mio così, per tutti. In su strada le persone passano, qui invece l'attenzione è proprio sulla mia musica, è diverso, l'energia è più concentrata. Per me è la prima standing ovation. La prima. Spero che le persone abbiano capito che la musica è la lingua internazionale, non è internazionale di pace.